Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dopo due puntate siamo ormai entrati nel vivo della nuova edizione di Ballando con le stelle che tra i concorrenti vede anche la partecipazione del conduttore di Uno Mattina, Massimiliano Ossini, in coppia con la ballerina Vira Kinnunen. Oggi, nella consueta puntata del programma mattutino di Rai 1, Ossini ha ospitato in studio proprio il ballerino professionista, nonché ex insegnante di Ballando con le stelle, Samuel Peron, il quale si è espresso criticamente nei confronti delle performance del conduttore nelle prime due puntate del talent di Millie Carlucci. Ecco le sue parole. Samuel Peron a Massimiliano Ossini. A ballando servono emozioni. Tu metti una maschera. La seconda puntata di Ballando con le stelle si è conclusa per Massimiliano Ossini con un appena discreto non opposto. Approfittando della presenza del grande ballerino Samuel Peron in studio a Uno Mattina proprio oggi, il conduttore ha dunque chiesto all'esperto un giudizio in merito alle sue prime due performance da Millie Carlucci. In diretta ballando ti fai troppi problemi, devi essere te stesso, lasciarti andare. Servono emozioni, a casa arrivano quelle. Ha dunque sottolineato Peron a Massimiliano Ossini senza risparmiargli qualche utile critica. Metti una maschera invece no, sono qui per aiutarti e darti dei consigli. In altre parole, il ballerino ha sottolineato la mancanza di emozioni e la rigidità che fino ad ora hanno caratterizzato le performance del conduttore. Già la giuria sabato sera mi distrugge, ora anche lunedì, ha quindi risposto ironicamente Massimiliano Ossini, leggermente spiazzato dalle critiche dirette dell'ex maestro di Ballando. Le tue ansie riversale su Vira e goditi il momento, ha quindi aggiunto Peron dando un consiglio al conduttore. Samuel Peron sulla giuria di Ballando con le stelle. Devono porre attenzione al giudizio. Ma Samuel Peron ha avuto qualcosa da dire anche sulla giuria di Ballando con le stelle, da ormai molto tempo, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Sono stati cattivi con diverse coppie, fra cui voi ha quindi precisato Peron a Massimiliano Ossini. Canino ha sottolineato come dal vivo si vedano più errori rispetto all'inquadratura che arriva a casa, ma nello stesso modo dovrebbero tenere in considerazione nel giudizio che ci sono concorrenti avvantaggiati, perché hanno una base di ballo e personaggi che si cimentano per la prima volta nella danza. Ma ancora non è tutto, perché l'ex insegnante ha aggiunto anche, devono porre attenzione al giudizio. È facile dare 8, 9 o 16, ma c'è già...